amici di sienauto ben ritrovati all'interno di una nostra nuova puntata dedicata interamente a voi appassionati dell'automotive quest'oggi ci troviamo da gruppo progetto in corto unione sovietica 141 a torino in compagnia di sergio raita sergio ciao a tutti attenzione perché qui dal gruppo progetto vengono anticipati gli incentivi statali raccontaci tutto su 36 vittoria anticipiamo gli incentivi statali visto che non sono ancora partiti dal progetto sono già partiti e non solo in più abbiamo la superposizione dell'usato e attenzione ricordiamo sempre la formula tutto è possibile è stato veramente un grandissimo successo l'abbiamo propagata piccolissime le rate attenzione e macchine in pronta consegna con la formula tutto è possibile aggiungendo soltanto un euro alla vostra spesa vi portate a casa uno smartphone di ultima generazione andiamo a scoprire le offerte una delle vetture più richieste e oltretutto introvabili in questo momento nel mercato del chilometro 0 500 abbiamo degli allestimenti dolce vita quindi super accessoriate un prezzo veramente interessantissimo ma non vi dico anche il prezzo ma vi dico la rate pensate che con la formula tutto è possibile avete un'ata piccolissima a partire con un piccolissimo anticipo da 99 euro al mese e ricordate sempre che con un euro in più vi ammaggiamo anche uno smartphone di ultima generazione vi ricordo che da progetto in corso di uno si vede 141 non abbiamo solo marchio fiat alfa lancia e abat ma anche multimarche marchi di marchi stranieri come questa spende a suzuki vitara anche qui non vi dico il prezzo vedico la rata pensate a partire con un piccolissimo anticipo da 249 euro al mese vi ricordo che è una macchina full hybrid vi ricordo che da progetto in corso di una sovietica non solo vetture nuove ma anche vetture alternative al nuovo come chilometri zero e auto aziendali come questa spende a panda cross chilometri zero non vi dico il prezzo ma vi dico la rata pensate con la formula tutto è possibile rata a partire da 89 euro al mese e con un euro in più avrete anche uno smartphone in omaggio una delle vetture più richieste del pubblico femminile ma non solo lancia y ne abbiamo in pronta consegna sia nella versione silver sono di partenza che la versione gold quindi più accessoriata sensore di parcheggio apple carplay clima automatico pensate con la forma tutto è possibile una rata piccolissima a partire da 89 euro al mese poco più di 3 euro al giorno cosa aspettate da progetto anche vetture per la famiglia abbiamo di spendere 500 l allestimento cross 1.4 benzina a un prezzo veramente interessantissimo ma anche qui dove dico il prezzo ma vi dico la rata pensate che con un piccolissimo anticipo l'ha portata a casa comprata a partire da 199 euro al mese accorrete mi raccomando da progetto in corso di un subito da 141 anche splendide vetture per la famiglia tipo station wagon chilometro zero pensate con una piccolissima anticipo rata a partire da 199 euro al mese avete capito bene 199 al mese e in più con un euro sempre che mangiamo uno smartphone siamo giunti ai saluti finali prima di farlo però vi ringraziamo per la vostra preziosa attenzione vi ricordiamo due cose fondamentali vale a dire che qui dal gruppo progetto trovate l'auto in pronta consegna e aggiungendo soltanto un euro con la formula tutto è possibile vi portate a casa uno smartphone di ultima generazione ringraziamo anche Sergio Lai grazie a te vittoria e vi ricordo che siamo aperti tutti i giorni la domenica anche il mattino mai più senza corso unione sovietica 141 a torino vi aspettiamo